buongiorno oggi sveglia molto presto perché si registra la puntata zero ovvero la presentazione della rubrica valdorso mi concedo questo caffè e poi subito prepararsi a dopo sono quasi pronta arrivo buongiorno io sono sara e insieme a mio marito emiliano sono la proprietaria della tenuta valdorso un agiturismo di charme immerso tra le meravigliose colline tra monferrato alessandrino e l'angastigiana oggi sono qui per presentarvi la rubrica valdorso un appuntamento settimanale in cui vi porterò con me alla scoperta non solo della tenuta valdorso ma anche dei meravigliosi luoghi che ci circondano la prima puntata sarà proprio a monte chiaro d'acqui il paese in cui sorge tenuta valdorso rubrica valdorso andrà in onda tutti i mercoledì sulla nostra pagina facebook www.facebook.com slash tenuta valdorso l'appuntamento è quindi al prossimo mercoledì con la prima puntata a monte chiaro d'acqui io vi saluto e vi aspetto mi raccomando non mancate www.facebook.com